A Teramo, conclusa la verifica delle schede da parte della Commissione elettorale centrale, si svolta la proclamazione pubblica degli eletti al nuovo Consiglio Comunale. Il sindaco Gian Guido D'Alberto, per il suo mandato a bis, si appresta a governare la città con una maggioranza di 20 consiglieri su 32 e con la sua civica insieme possiamo con ben 6 posti in virtù del 15,4% ottenuto. I partiti Movimento 5 Stelle, un seggio, PD, seconda forza di maggioranza, con 4. Oggi con la proclamazione di fatto viene ufficializzato il risultato elettorale e si apre la nuova fase, da qui a 20 giorni si terrà il primo Consiglio Comunale e nell'ambito di questo periodo dovrà essere appunto costituita la nuova giunta, la giunta del secondo mandato, fino ad oggi ha continuato ad operare e devo ringraziare tutti i componenti dell'attuale giunta, la giunta precedente, non ci siamo mai fermati, da oggi si apre ufficialmente il cosiddetto secondo mandato elettorale che mi vede ancora sindaco e quindi daremo seguito al lavoro che abbiamo svolto nel corso di questi anni e devo ovviamente rivolgere gli auguri più sinceri a tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione eletti, coloro che subentreranno da qui al primo Consiglio Utile sulla base delle surroghe, perché la sfida che ci attende, che attende la nostra città è una sfida che deve assolutamente vedere il coinvolgimento di tutti, di chi è maggioranza ma anche di coloro che ricoprono il ruolo di opposizione ma attraverso un lavoro costruttivo che mette sempre al centro la città, ovviamente lavoreremo insieme per costruire il futuro di Termo. Il primo Consiglio sarà quello del 5 giugno? No, quello del 5 giugno con la nomina dei nuovi consiglieri, quindi il nuovo Consiglio automaticamente decade e quindi ci sarà una nuova riprogrammazione dei primi Consigli, il primo che è quello della prima seduta Utile e poi subito dopo il Consiglio sul rendiconto. Nelle opposizioni il centrodestra di Carlo Antonetti 10 seggi a fare la parte del Leone sarà futuro in civica dell'ex assessore regionale Paolo Gatti, mentre avrà un peso minimo Fratelli Italia e Lega con un solo seggio a testa. Infine il polo civico di Maria Cristina Marroni potrà contare su due consiglieri eletti.